Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Purtroppo Bregliasco non ci ha dato una buona notizia, dal momento che il boom di casi di influenza e di covid è previsto proprio nei giorni natalizi. Tutto come previsto, dunque, a oggi, i ricoveri per sono aumentati del 15,4% negli ultimi sette giorni. Ad aumentare sono anche gli italiani a letto con l'influenza, specie i più piccoli. Chi ha contratto il covid in estate e in autunno credeva di scamparsela, ma ecco arrivare il duro colpo. Il 45% dei casi totali di contagio riguarda soggetti che si sono ribeccati il virus. Proprio per chiarirci cosa sta accadendo, il FattoQuotidiano.it ha intervistato Fabrizio Pregliasco, docente di igiene generale e medicina, preventiva all'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'IRCS Galeazzi. L'esperto ha spiegato che il virus è camaleontico e che i casi di positività sono sottostimati, dal momento che chi risulta positivo non registra il tampone. Il virus in molti casi è banale, ma il discorso cambia se il virus va a colpire un soggetto fragile o un anziano. In queste situazioni si può arrivare all'ospedalizzazione e non va dimenticato il numero di decessi che, la settimana scorsa, è stato di 300 persone. Quindi, quali sono le raccomandazioni del celebre professore? Quelle di fare il tampone ai primi sintomi respiratori, in modo da poter subito intervenire con antivirali. Prima di partecipare a pranzi e cenoni natalizi, dunque, sarebbe opportuno fare il tampone, in modo da nominare la sicurezza delle persone anziane e fragili, sebbene la miglior cosa consiste nel farli vaccinare. Grazie. Grazie.